Ciao a tutti ragazzi, oggi qui è il vostro Pepe Game. Oggi volevo fare veramente i complimenti a Zlatan Ibrahimovic, di quello che ha detto soprattutto per quanto riguarda la sua carriera. Vuole veramente continuare col Milan. Davvero una felicità immensa per quanto riguarda i fosti rossoneri. E faccio veramente i complimenti a questo uomo, a Zlatan Ibrahimovic, che ha 40 anni, l'età di 40 anni, lotta ancora con il suo fisico per dare il massimo. E sono davvero contento che lui sta veramente bene, che giocherà soprattutto in queste partite, che darà il suo supporto. Sono contento soprattutto dei medici che ha a disposizione, soprattutto la società di Milan, che gli stanno dando veramente una grande mano. E stanno veramente curando molto nei particolari, soprattutto il corpo di Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic che ha detto che non ha dato la sicurezza di finire la sua carriera con la maglia del Milan, ma vuole soprattutto tirare fino a lungo e non avere rimpianti su tutto quanto riguarda la sua carriera. E faccio veramente i complimenti a questo grande uomo che sta dando una grande mano a questo Milan. E spero che quest'anno si porterà veramente lo scudetto a casa. Ibrahimovic è l'uomo quello che dà la mano per far vincere tutto il scudetto, soprattutto in Italia. Ha vinto lo scudetto con l'Inter, ha vinto lo scudetto con la Juventus, ha vinto lo scudetto con il Milan. E vuole portarsi a casa quest'anno questo scudetto. Fatemi sapere voi cosa pensate di questo grande giocatore, di questo grande fenomeno di Zlatan Ibrahimovic. E iscrivetevi al canale, lasciate un like e attraverate la campanellina per essere aggiornati sui miei contenuti. Bella ragazzi!